Si chiama Whitney Franks, a 26 anni di età, una donna molto giovane, la quale ha saputo di una storia d'amore proprio per una collega da parte di un'altra donna. E così questa giovane donna ha cercato, in tutti i modi, di mettersi in contatto con un sicario proprio su internet per andare a far fuori l'amante proprio, Rea, del fatto che avrebbe portato via l'uomo che le stessa va, o meglio, pensa di amare. C'è il caso sicario, sarebbe stato questo l'annuncio che la donna, diciamo, si avrebbe fatto anche attraverso Facebook e adesso però la donna verrà rintracciata, o meglio, è stata rintracciata e dovrà sostenere un processo di tipo penale. Infatti la donna avrebbe riportato, sto cercando, una persona che faccia fuori una donna, ho mille dollari, sono disposta a pagare anche di più. La donna, quindi, diciamo, che a seguito di questa noce che ha pubblicato Facebook, adesso si ritrova incriminata per una grave accusa, pesante di un macinio, quella di, diciamo così, tentato omicidio, nel senso che vuole far fuori una persona. Detto questo, grazie a tutti, cerchiamo infatti di consigliare un new web, iscrivetevi, commentatevi, ciao a te, ragazzi.